I temi che in Napoli la proiettiamo anche verso il futuro, no? Non so, ma non è che lo stesso, è chiaro. Chiaro, chiaro, chiaro. Allora, ragazzi, quando abbiamo una serie di cazzette, perché c'è giusto il giubbio, abbiamo aggiunto un po' di mese, e quando i messi, qua, ci saranno a Parama, le cazzette, per una lappina di Napoli, no? Ci siamo ricordati che sarebbe bello, che abbiamo avuto, elaborare i programmi successivi, scoperto in URIM. Alla fine rimaniamo con un cliente equipatto, l'anno di vita è un vent'attezzato, noi, e facciamo un altro, noi, ci siamo chiedi, viagliessi, Piazza Miraglia, perché è stato il signore ex, per un terminiere, e ci siamo più dall'altra, e ci siamo già conoscenze, partecipate. E quindi, grazie. Perchino, portiamo anche le aziende, e poi ci troviamo, con, ehm, la zette di doppia, giovedì, non lo stanno, e questo, questa è la cosa che riesce, io lo sto qua da fare, ehm, ehm, ah, me la inserisci, vabbè, ho iscrivito, se posso essere, venuti, si, si, va bene, va bene, voi dicondogliere il suo amore ho amuto, si, scusami, si sta, giovedì, ci sta, il piazza del palo, e il fiare chi ne va dip non lo a tezza. vogliamo fare li due, o vogliamo fare te due, o vogliamo fare nessuno. Allora, ci sconosate quello che ci ha, luciendo la piazza, la piazza del palo, prendono presto. La web, le buone le bole a web, il quino la web, l'abbiamo fatto, ora la bimbo è che dà la terra, dà la terra, e lui significa riuscire in senza effetto. Ora a l'altro io, ormai fa male. Sarà interessante. Se c'è stato più standardizzato, si organizziamo. La faccia di fare. Ora come lo sappiamo? A priori, a mercato. Lo sappiamo. A priori non gestiamo, non gestiamo mai. Il problema è che per rispondere per farne due o farne uno, per farne cosa, c'è sotto questi caselli, pure che noi facciamo due, ma che facciamo, e quello è il punto, perché oggi non abbiamo dei contenuti, tanto vale che ne facciamo uno, perché se noi facciamo un po' a tavolo, anche più tante ore, come dicevo, uno ogni settimana. il mese di luglio ne facciamo quattro agosto lo facciamo a mese perché è ferie e poi partiamo la settimana uno alla settimana quattro in un mese luglio ho capito lo so no 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 ma io mi faceva il discorso come diceva Luca e anche adesso Antonio il senso poi dopo io faccio il discorso come dice pratico siamo trovati tutti i giocatori a piazza che ha arrivato ma almeno mi diverti è chiaro? purtroppo sai buono che tu fai il colpo si certo si mette con il peccato chiaramente fa la parte sua però poi alla fine sono stati i giocatori dall'altro sia guardati che facciamo allora vogliamo rendersi statica la cosa vogliamo avere un senso due vanno bene due allora vanno bene lato volito per me allora io voglio andare a piarenazzi 5 piarenazzi 6 piarenazzi si mette a piarenazzi e poi a piarenazzi e poi a piarenazzi e poi a piarenazzi non fa lungo non c'è nessuno poi si pone un problema invece anche per i piarenazzi per i piarenazzi per i piarenazzi c'è un consumo regionale di frontale aiutata vogliamo lanciare questa piarenazzi proviamo a invitarle una racconta a pime perché la gente lei non mai voglio filmare ce lo chiedono infatti in molti ce lo chiedono le predizioni quindi la gente non va a mano le predizioni come vedi sono aperte si sa quando cominciano poi le piarenazzi vediamo chi è che se l'ha e se non mi trovi le piarenazzi c'è tutto il piarenazzi c'è tutto il piarenazzi c'è tutto il piarenazzi c'è tutto il piarenazzi il paolo possiamo fare un'arriquenzia e poi gli andiamo in fila quando pigliando come sembra, lo vogliamo. E' un altro giallo. E' un altro giallo. E' un 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 giallo. Per evitare ci sta invece il... Come si chiama? Il mercato. Il mercato di potere ha. La domenica mattina abbiamo proposto una volta al posto e poi è una cosia... E' una cosia... C'era la fine. Volevamo andare la anche per far vedere e mettiamo in giallo. Noi andiamo solo per me. In giallo di Montoreale. In San Giudice. Poi ci andiamo anche con il posto e anche in Penaena. Poi ci andiamo anche quando... quando ci sono le lezioni. Poi facciamo anche in quella... Come si chiama... La domenica mattina. Ma tu vedi che si chiama... Se stava muovendo agli amati. No... In ragazza... Facciamo il sabato mattina. E' un po' per esempio... Poi si chiama... Il mercato di rionale al Penaena. Facciamo il sabato mattina. No... Lo stai giusto sabato. No, no, c'è il sabato e il sabato. Sì, sabato e il domenica. Non c'è nulla, non c'è nulla. Non c'è nulla. Non c'è nulla. Devo chiudere. C'è mai avuto sti impressini? Non c'è nulla. Non c'è nulla. Gaetano, avviamoci nella sindesi perché penso che stanno per giudere. Se dobbiamo continuare la discussione perché non ci spostiamo nell'antiteatro? No, dico nell'antiteatro, ci spostiamo nell'antiteatro. Va bene. No. Ma se andranno bene c'è... No, ma Romeo, perché questo ce n'ha mai tra poco. Che stanno per giudere. Se abbiamo necessità di pubblicare ci spostiamo nell'antiteatro. Allora, venerdì mattina il corso medionale e il corso oleato. Dobbiamo decidere se fanno tutti, se fanno uno o se fanno noi. Per me va bene uno. Pure per me va bene uno. Poi sabato prossimo abbiamo Piazza Viraglia e Porta San Gennaro. Piazza Miraglia dove è? Piazza Miraglia dove è? Ah, il vecchio è Porta San Gennaro. Allora, andiamo adesso per alzare il mare. O no? Vai! Allora, giovedì sera, due cazzette, di Arenaccio e Piazza Caripato. Chi è che ne vuole fare comunque? Allora, chi è che sceglie Piazza Caripato? L'alternativa qual era? Di Arenaccio. Chi è che vuole Piazza Caripato? Gaetano, alziamo le mani e lo diamo per Piazza Caripato. No, come? Chi non ha neanche tutto quanto per Piazza Caripato? No, non è una liquidella, ma non è tutto quanto per Piazza Caripato. No, non è tutto quanto per Piazza Caripato. Il modiato non si è duperato. No, non è tutto. Allora, ci sono previste due cazzette. Le vogliamo fare due o uno solo per una metterà in un palo. Uno solo. No, le vogliamo fare uno solo? Dove? Chi desi? Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Allora. Uno, Piazza Caripato, chi è d'accordo? Uno, Piazza Caripato, chi è d'accordo? Piazza Caripato, ok. Allora, non la cazzo dovremmo. Approvato. Approvato. Piazza Caripato. Approvato. Piazza Caripato. Approvato. Piazza Caripato. Corso Meridionale. O nel corso meridionale. Corso Meridionale. Corso Meridionale. Due o uno. Corso Meridionale. Corso Meridionale. Carlo diceva, due o uno. No, uno. Sempre uno. Sempre uno. Gaeta. Uno dove? Corso Meridionale. Corso Meridionale. Approvato. Invece abbiamo Piazza Miraglia e Porta San Bernardino. E poi c'è sempre o uno, due. Oh no, aspetta. Piazza Miraglia e Porta San Bernardino. Piazza Miraglia, Piazza Miraglia i Sabato. Non funziona. Gaetano, a me. Setti ma... Sattacobine. Sattacobine. Allora facciamo la piraglia, la carta a piraglia, la carta a piraglia, la carta a piraglia. La carta a piraglia, la carta a piraglia. Ragazzi noi dobbiamo agevolare, forse non mi sono spiegato, dobbiamo agevolare, se vogliamo proseguire la discussione. Non mi sono spiegato, non mi sono spiegato, non mi sono spiegato, non mi sono spiegato. Allora per giudere, Pino lancerà i cazzetti, ma raccogliate le non le lasciate per prendere il vuoto. Eccardo le incendia, come ha detto, un pataccio in vino. Non facciamo i cazzetti, non facciamo i cazzetti. Non facciamo i cazzetti, non facciamo i cazzetti. No, 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 nessuno. Ok, va bene, andate in base. Finiamo? Chiudiamo ragazzi. No, bebe, io se ne ho soltanto una cosa molto veloce. Venerdì 10 luglio, ho saputo che ci sta la proiezione del futuro a Piazza Municipio. La? La trattativa. La trattativa a Piazza Municipio. Perché come rappresentanza, come cittadinanza attiva, non ci riuniamo un po' là, visto che è un tema che tocchiamo noi. Sono d'accordo? Alle 20 e 30. Cioè facciamo anche noi, come dire... Alle 8 e mezza. Alle 8 e mezza. Cosa c'è? La trattativa. Un film? 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 Sì, sì. La scelta dov'è essere la propria. Non lo fa nulla. Non lo fa nulla. T'abbiamo sempre. No, non lo fa nulla. Non vedeva. Ciascuno può essere. No, lo puol dire anche la granifica. Lo puol dire. Magari esserci. Ragazzi, un saluto a tutti da M5S Napoli. Un Napoli. Ci vediamo. Ci vediamo alla prossima, Rirono. Un abbraccio a tutti. Ciao, ciao, ciao. Un saluto sempre. Un saluto sempre.